Il Zorvec mi ha fatto un'ottima impressione. Oggi abbiamo visto una prova molto ben fatta, dove è evidente l'attività di Zorvec, sia con folpt che con zoxamide. Dalla prima prova adesso in cui mi trovo in questo momento, mi sembra essere un prodotto che possa ritagliarsi un utilizzo elettivo, specialmente in questa fase, nella fase di fioritura, post fioritura. Quello che ho potuto vedere io sia a livello delle foglie nel momento del trattamento, sia anche delle foglie di ultima formazione, che sono sfuggite sicuramente all'azione del nuovo antiperonosporico, ma nell'insieme la sanità della pianta è di buon livello. E quindi è un salto molto importante, perché è un salto di qualità proprio nelle modalità di azione all'interno della foglia e del grappolo. La mia impressione è che si trovi di fronte ad un prodotto ottimo dal punto di vista dell'efficacia. Lo Zorvec indubbiamente sarà fondamentale nella difesa antiperonosporica. La mia impressione è che si trovi di fronte ad un prodotto ottimo